La tua Prism Experience la scrivi tu, grazie al protocollo MQTT. Il protocollo MQTT ti permette di attivare simultaneità e automatismi nei dispositivi legati al tuo sistema di domotica, tra i quali Prism. Ma a cosa serve e cosa rende possibile il protocollo MQTT? Parliamo! La comunicazione, che genera sinergia e automatismi comandati tra gli elementi di un sistema e sostanzialmente regolata dalla presenza di un protocollo che alla pari di una lingua mette in dialogo due entità servendosi di regole rispettate e ritenute valide da ambo le parti. Nel caso di Internet, per esempio, siamo in grado di navigare sfruttando il protocollo HTTP. Nel caso dell'IoT, ovvero Internet delle cose, categoria in cui rientra la domotica nelle abitazioni, allora il protocollo che utilizziamo è l'MQTT. È un meccanismo di dialogo che, per la sua flessibilità e semplicità, ben si presta a interfacciarsi con dispositivi dalla capacità di calcolo più limitata di un computer. Il protocollo MQTT rende quindi possibile ogni tipo di comunicazione tra dispositivi facenti parte dello stesso sistema, per esempio di domotica. Insomma, grazie al protocollo MQTT, prende vita ogni tipo di automatismo che non preveda tanto l'intervento manuale o di gestione da remoto via app. Quanto l'input esercitato dall'utente, coerente con le informazioni con cui abbiamo istruito il sistema.